Ciao a tutti ragazzi e bentornati a un nuovo episodio di The Bad Kids Dunque l'ultima volta abbiamo iniziato a viaggiare avanti e indietro qua col proiettore Volevano mandare una lettera di minacce a Mr. Zhang Devo trovare un modo per andare al Children's Palace Ok, qui abbiamo la phone card, il cell phone e... che cacchio è questo? E la lettera di minaccia Quindi proiettore Dobbiamo andare al Children's Palace Quindi qua Primo piano Ok Tang Fang Xia Senior Teacher Quindi un insegnante Un po' insomma Senior nel senso quindi che c'è da tempo Al Children's Palace Con oltre due decenni di esperienza e risultati stellari Le sue classi, quindi le sue lezioni di olimpiadi di matematica hanno vinto un premio per la lezione più popolare di Children's Palace di quest'anno Oh, sta matematica spigna Qualcuno sta parlando all'interno Miss Li La lezione di Mr. Zhang di oggi è stata un successo? Sì Ma il merito comunque non è suo E quindi Non ha alcun collegamento Quindi non è un impiegato ufficiale Deve provare a mostrarsi Insomma per quello che è Quindi per dimostrare il suo valore Beh è una cosa abbastanza scema Considerando che comunque lui Undergraduate Quindi non è laureato Avrebbe potuto arrivare a un successo molto più grande Se solo si fosse impegnato di più Oh, sono qua Ciao Yang Ottimo, siamo tutti qui Adesso possiamo dividerci per cercare Zhang Dongsheng Vedi come vanno le cose al Children's Palace E cerca l'ufficio di Zhang Dongsheng qua Ok, allora, vediamo Non corro per vedere se c'è qualcosa di nuovo da vedere Ecco, tipo Questo di evacuazione In caso di incendio Che dimostra chiaramente come è fatta la struttura Però a quanto pare non lo vuole vedere Saliamo, saliamo Pupu, che cosa hai trovato? Zitto, questo è l'ufficio del Killer C'è qualcuno dentro Ma non possiamo entrare Cerchiamo Yang Liang E discutiamo che cosa fare Ah, ecco Mo lo vede Ho un'idea Ci dobbiamo dividere E dobbiamo cercare di attirare Gli insegnanti fuori dall'ufficio Certo, facciamolo Dimmi soltanto che devo fare Fratello, ciao Yang La campanella è al secondo piano Possiamo usare quella? Chi è che ci sta bene a fare una cosa simile? Se lei ci arriva Manderei lei, onestamente Non ci arriva Infatti Aspetta, aspetta No, allora Mandaci lui che è alto E niente Non me la toglie più Ma rimetti qua Ok, lui ci arriva Lei bussa Loro parlano E lui sta qui Ma a quanto pare Non sa che fare qui Quindi se facciamo invece così No, rimane perplesso Quindi così Questo va bene Forse E quindi metterei questo qua Sì Questo qui parla di sport Lui ci arriva Questa è un po' perplessa Non lo so se questo funziona Però questo sì E questo vuole Proviamo Ah, piange Per favore puoi aiutarmi? Cosa c'è che non va Ragazzina Mamma mi ha portato qui Per segnarmi Alla classe del coro Ma non riesco a trovarla Non ti preoccupare Ragazzina Ti porto da tua madre Ehi, aspetta Tu in che classe stai? Aspettami Ah, quindi non parlavamo di sport Stava a correre via E lui suona la campanella Chi sta facendo questo scherzo? Si è stancato? Ah, ok Non è una buona idea Quando accendo la campana Devo scappare più fretta che posso Ma sono un corridore molto lento Meglio pensare a qualcos'altro Quindi tu ti metti a piangere qua Allora tu vai qui No Tu suoni la campanella E tu vai qui Per forza Che sta succedendo? Perché sta suonando la lezione della campanella? La campanella della lezione, scusate Ehi, ragazzino Chi ti ha dato il permesso di suonare la campanella? Fermati Sei uno studente qui? Che sta succedendo? Perché stai correndo? Per favore, hai trovato mia mamma? Ok, così funziona Yan e Pupo dovrebbero essere capaci di mantenere i professori occupati per un po' Devo trovare un posto adatto per lasciare la nostra lettera a Zhang Ok, sono usciti Una chance perfetta per lasciare questa lettera al sicuro da qualche parte Cassaforte Questo è l'armadietto di Zhang È il posto migliore per mettere la lettera Ma si aprirà soltanto con la tessera del professore Noi ce l'abbiamo, mi sa Phone card Ah, c'ho la phone card Non so se sta stessa cosa però proveremo Intanto vediamo un attimo Qui c'è un computer La password La password si cambia ogni giorno Allora, è il 15 Il fatto che sia il 15 Probabilmente significa che la password è composta da questi Sto facendo una foto Questo può essere usato per magnetizzare degli oggetti Allora, B F G O F I M D A Magnetizzare degli oggetti Non so se posso magnetizzare questa O Magnetizzata Boh Non mi ha detto niente Posso magnetizzare il telefono E allora non lo so Allora, vediamo Vediamo se c'è qualcos'altro di utile Il nome è Liu Weidong 17 febbraio 52 Cittadino Nato a Jiangtan Town Studiato a Ningzhou University I suoi obbi sono la criptologia C'è Cifrare In particolare la roba di Cesare Ha vinto un premio nella competizione di criptologia Zhang Dongsheng 29 dicembre 72 Cittadino Nato a Zhangjuan Wow Village Educazione Zhejiang University Undergraduate Eccolo qua Quindi questo dovrebbe essere quello che è bravo Però Non si è laureato In serie O comunque ha fatto una laurea Tipo triennale Non so Cioè nel senso Comunque undergraduate Quindi sta sotto Agli altri Come livello di studio Children's Palace Janitor Quindi ha lavorato qui Come tutto fare Diciamo Dal 98 al 2005 E quindi gli altri lo trattano Insomma da inferiore Gli altri professori Oh Eccola la carta magnetica Eh vedi che mi sottolinea Che il 15 luglio Questa cosa ha senso Mister Zhang Non ho ricevuto una risposta Quindi sto rimandando questo Ricordati di cambiare Sitz sui posti a sedere Abbiamo aggiunto Abbiamo assunto Un nuovo professore Quindi devi cambiare posto Devi cambiare tipo la La scrivania Tornerà a breve A spostare le sue cose La lettera Non è al sicuro Qui Perché Sta facendo così tante Lezioni di Olimpiadi di matematica Praticamente è come se Avesse Una sorta di paura Con gli altri professori Allora io adesso Non so se servirà Anche quello Per riuscire a capire Qui Allora intanto Questo In teoria Con Questa La possiamo aprire È smagnetizzata Va bene Però qui possiamo Magnetizzare Vediamo un po' Però forse Solo Solo con la password Guarda Secondo me non l'ha fatto Devo mettere la password Al computer Sennò perché Mette la password Al computer Solo per questo Eh infatti Quindi dobbiamo Mettere la password Al computer Adesso Per riuscire a capire Questa cosa Non so se io Devo fare qua Una foto Vediamo Proviamo 15 luglio 15 luglio E dobbiamo Riuscire qui A capire Questa cosa Della password Allora ne abbiamo Che lui Fa di lunedì Matematica Alla prima ora E alla terza Il martedì Alla seconda E alla quarta Il giovedì Alla terza E il venerdì Alla quarta Le lettere Le lettere sono Quattro E i giorni Della settimana Sono cinque Però qua Sono sette Eh Non lo so Difficile Ma quante lettere Ci devo mettere Poi Ah Cioè Quante me ne pare Sì Pure fuori Mi pare eccessivo Onestamente Allora qui vediamo Che la A diventa B La C diventa D La H diventa I La F diventa G Quindi una lettera in più Ok Va bene Fin qui ci siamo Se oggi è 15 Cambia ogni giorno C'è scritto la password Oggi è 15 1 E 5 Quindi dovrebbe essere Le lettere successive a questa E le lettere successive a questa Proviamo Se è così Dovrebbe essere abbastanza fattibile Quindi La B diventa C La F diventa G La G diventa H La O diventa P La F diventa G La I diventa H I In lunga Ok Poi diventa La M diventa N La D diventa E E porca trota Però è 15 È 15 Giusto? E però il senso era quello 15 Mi sottolinea che è 15 Non può essere il mese Dice cambia tutti i giorni E allora boh Perché ha senso no? Se deve andare avanti di 1 1 e 5 Sono questi La password Resets Daily La password Cambia ogni giorno Quindi se oggi È 15 Poi è 16 Poi è 17 E il 18 E il 18 come fa? Vedi che il 18 però è nuovo Fa Perché ci sono solo 7? Il 18 non entra? Non lo so Se oggi è 15 Che senso c'ha? Se me l'ha pure messo lì davanti Vuol dire che è importante La password cambia ogni giorno Va avanti di una lettera Da A diventa B Eccetera E di questo sono sicura Poi è possibile che non sia questo che ho fatto? Ragazzi ho dovuto guardare Perché il senso non l'ho capito Era soltanto il 5 Quindi era giusto Mandare avanti Di una lettera Però non era 15 Era 5 Non ho capito perché 5 Se oggi è 15 E la password cambia ogni giorno Avrà a che fare con le lezioni di matematica 3, 4, 5, 6 sono Non l'ho capito Se l'ho capito fatemi sapere Insomma ho dovuto barare i ragazzi Perché nella mia logica era quello Cioè era 15 Il fatto che sia 5 Non lo so Perché solo 5 Onestamente non lo so Comunque vediamo browser Non si carica La stampante Non la trova La chat Miss Wang Zhang Dongsheng Nell'ufficio Non sta rispondendo ai miei messaggi Mr. Liu Non l'ho visto qui intorno Che succede? Il nuovo insegnante arriverà domani E bisogna arrangiarsi a fare delle cose Deve cambiare posto Per fare gli spazio nella stanza Perché non sta rispondendo? È un ragazzo impegnato Con le sue proprie lezioni Però si deve dare retta a Mr. Tang Non mi interessa se non ha tempo per altro Se sta per fare questo scambio Deve sbrigarsi Lui è soltanto un tutto fare Insomma Come per dire Sta un po' a scafare Quindi comunque continua a non essere un insegnante Non essere troppo dura con lui Lui è fatto così Gli piace mettersi per conto suo Ok Lascerò una nota sulla sua scrivania Dovrebbe funzionare Comunque Il tuo magnetizer funziona ancora? Il mio pass è stato demagnetizzato Certo Bussa Forse bussa nel senso Vabbè Fai pure insomma Senza problemi Allora Questo è il corso No Forse questo ha a che fare Quindi con La foto che abbiamo fatto prima Faccio una foto anche a questo qua Quindi non capisco perché era 5 ragazzi Questa cosa Mi manderà ai pazzi proprio Perché non riesco a capire E mi dà fastidio non capire A questo io ho fatto una foto Vediamo se ha buttato qualcosa Non ha buttato niente Dobbiamo attivare questo Aspetta Cyberman Hunt cos'è? I miei compagni di classe hanno parlato di questo gioco Cyberman Hunt Vorrei provarlo anche io Se avessi possibilità Allora l'ID magnetizer Aspetta Zhang Dongsheng Faccio una foto pure a questo va? Che cacchio si ricorda Amo i dati di Zhang Dongsheng? Io no Va bene Un gioco dove devo fare 700 foto Quindi Metti le informazioni corrette E poi clicca sul tasto per magnetizzare Quindi Zhang Dongsheng Ah Cacchio Non basta neanche questo Qua Zhang Dongsheng Eccolo qui Faccio la foto Anche a questo Ovviamente il gioco con più foto Della storia dei giochi Quindi Zhang Dongsheng E' quello che era Insomma un janitor Ed è undergraduate Quindi Zhang Dongsheng Dongsheng Scusate Undergraduate Perfetto L'ID È 9527 È detto 9527 Posizione Children's Palace Janitor Organization Temporary Employment School worker E' uno school worker E che classe di matematica fa? Zhang Dongsheng Math Primary Penso così Credo Oddio non ho messo la card Che palle Modori Fattuto da capo Allora Zhang Dongsheng Undergraduate Non mi ricordo 9527 Giusto Penso School worker Math Primary Adora Non è uno school worker Un temporary Employment Ma che stai dicendo Che l'ho messa la carta? Ma che cacchio dici? Ma sta più in giro Sto cosa? Zang Dongsheng Undergraduate 9527 Mi giuro Non so quello E la classe è quella Lì che dopo Zhang Dongsheng E quindi giusto 9527 Math Primary Zhang Dongsheng Undergraduate L'informazione è sbagliata O la carta non è stata messa? O lui è undergraduate Che devo fare? Zhang Dongsheng Lui viene messo Come primary Che devo fare? Però lui ha messo Matematica Lunedì Monday Monday Quindi lui si è messo Di più secondo me Si è messo anche Middle Monday Monday Tuesday Tuesday Due volte Sì Così Oh Ok Una fatica Quindi adesso è magnetizzata Adesso che è magnetizzata Possiamo utilizzare questo E possiamo prendere questo È aperto Mettere qui La lettera Non dovrebbe essere Un problema Dove solo mettere la lettera Non posso vedere niente Qua dentro Quindi lettera di minaccia La lettera è stata Mandata Insomma Adesso me la devo andare Che libri stiamo spostando I libri sono sopra Vieni con me Ma quindi qui la ragazzina È ancora viva Pupo sta per portare Zhu Jingjing Via Devo fermarla Non ho bisogno Del tuo aiuto Cosa c'è che non va È successo qualcosa Al Children's Palace È tutta colpa mia Non si può sfuggire All'inevitabile Che è successo Ho visto la sorellina Di Chao Yang E sono salita Con lei Perché insomma Volevo che smettesse Di rompere le scadole A Chao Yang di nuovo Poi ho visto Fratello Chao Yang Lei ci stava urlando E poi si è arrampicata Alla finestra E poi in qualche modo È cascata Fino a che è cascata Per quanto suo Non devi darti colpa Per questo Basta dirlo alla polizia Ma ci crederanno Ma se non parli adesso Sarà ancora più tardi Cioè Difficile De chiedere più tardi Anche se la polizia Dovesse credermi Mio padre Lo farà Non mi importa Com'è successo Jing Jing è caduta A causa mia Perché mi Mi dovrebbe perdonare E Pupu La polizia La rimanderà Alla welfare home Quindi in queste case Famiglia diciamo Se la trovano Mi dispiace Fratello Chao Yang È tutta colpa mia Devo andare Se vuoi chiamare La polizia Vai avanti Fratello Chao Yang Ci vediamo al Scusa Pupu Ho esagerato Va tutto bene Yang Yang Sono io quella Che ha sbagliato E ho Tirato Chao Yang In tutto questo Yang Yang Se suo padre Sentisse tutto questo Che cosa penserebbe Lui Di Chao Yang Diventerebbe Sanza padre Come noi Capisco Quando lei è cascata Che cosa ti stava passando Nella mente Chao Yang Era paura Oppure gioia Stai zitto No forse Dovrei dire Ecstatic Ecstatic Padre Cosa passerà Il mio compleanno Con me Vai avanti I tuoi amici Ti stanno aspettando Alla libreria Amici Ti hanno messo Tra virgolette Noi tre Ci siamo messi D'accordo Di incontrarci Alla libreria Dovrei andare 16 luglio Scusa Ciao Yang Ieri Insomma Non Non mi girava Benissimo Cos'è cambiato Nella mente Di Yan Liang Pupu Gli ha detto qualcosa Ti abbiamo causato Troppi guai Recentemente Ne abbiamo parlato Ce ne andremo Da Ningzhou In un paio di giorni Papà Pupu Vuole visitare Xing Xing E come pensate Di pagare Insomma Questo viaggio Funzionerà Ci penseremo Quando arriverà Il momento Ciao Yang Noi torneremo A visitarti Con Xing Xing Quando starà bene Sì Ah e ciao Yang Oggi è tuo compleanno Yang Yang e io Zhu ciao Yang Eccolo Immagino Che la lettera Che ho trovato Nel mio armadietto Sia stata Fatta da te Ci siamo Già incontrati In questa Libreria Prima La scrittura Su questa lettera Esattamente Quella delle Tue Olimpiadi Di matematica Pensi che Idiota Poteva farlo Scrive a loro Quello che tu Hai testimoniato È stato Un incidente Non avevo ragione Di far del male Alla mia famiglia Bugiardo Abbiamo delle foto Che provano Che stai mentendo Esatto È così E prova a fare Un passo falso E chiameremo La polizia Se volete Veramente Fare un report Di tutto questo Avreste dovuto Dare la fotocamera Alla polizia Tempo fa Quindi che cosa Volete Oggetti Soldi Siete arrivati Addirittura Ad arrivare A mandarmi Delle lettere Minatorie Quindi significa Che volete Qualcosa in cambio Che Quanto ci paghi Per questo video Parlerò Parleremo di questo Dopo che avrò Visto il video Ciao Yang Dagli la telecamera Vabbè Siete stupidi La rompe Oppure scappa Non è difficile Che ne pensate Vi do 10.000 A testa Penso che sia Abbastanza buono Per ognuno di voi 300.000 300.000 Yang Yang Cosa Ho detto Il prezzo È 300.000 Ma io sono Soltanto Un sostituto C'è un supplente Non c'ho Tutti questi soldi 300.000 è troppo Non posso pagarla Bugiardo Tutto guidi Una macchina Insomma Di lusso Va bene Chiamatemi Quando avete pensato A questa cosa È un assassino Sento che Sento che Adesso abbiamo Adesso abbiamo una chance Che cosa stiamo aspettando La telecamera Appartiene al fratello Ciao Yang Non abbiamo la prova Quindi lui è l'unico Che può aiutarci Per avere dei soldi Siamo così Dei buoni amici E gli amici Dovrebbero aiutarsi L'un l'altro No Anche Ciao Yang Lo conosce Lui conosce Questo insegnante Al Children's Palace Quindi questo assassino Non ci seguirà A noi Se dovesse provare Qualcosa di Divertente Ma nel senso Che gli vuole fregare Lo combatterò È un Tipo Che non è buono Chi se ne importa Se dovesse morire L'assassino Non ci conosce Se qualcosa Dovesse succedere Non verrà dietro di noi All'inizio Comunque Cerchiamo di Farci dare i soldi Quindi ecco Perché dici Nostri amici Fratello Ciao Yang Perché non lo discutiamo Tutto ciò Sulla barca Se la volpe Sta cercando Di fregarmi Oppure veramente Loro stanno cercando Di usarmi Per i loro interessi O altre cose Che mi aspettano Va bene Se hai tempo Questa notte Ci troverai Alla barca Ok Quindi di chi Ci possiamo fidare Veramente Perché papà Non è ancora qui Dovrei chiamarlo La volpe ha detto Che papà Avrebbe passato Il mio compleanno Con me Dovrei chiamare papà Dovrei chiamarlo Eccolo Devo mettere la card Qua dentro Eccola qua Ah Andate lungo Papà Non avevi promesso Di celebrare Il mio compleanno Con me Quando arriverai Come poter Dimenticare Il compleanno Di mio figlio Tanti auguri Diventerai migliore E una persona Più Ragionevole Grazie papà Adesso sei grande Yang Yang Capirai quindi Il dilemma Di tuo padre Volevo passare Veramente Il mio Il tuo compleanno Con te Ma dopo L'incidente Di Jing Jing Questa cosa Spezia il cuore Soprattutto A zia Wang Nessuna madre Riesce ad andare avanti Nella perdita Di un proprio figlio Quindi devo passare Più tempo Con lei Che ne pensi Di questo Papà Riserverà Un tavolo Al miglior ristorante Della città Ordina tutto Quello che vuoi Sul mio conto Niente Lui non riesce A stare con il padre Manco Manco così Ti vedrò Quando avrò tempo Sia un bravo ragazzo Devo andare Ok papà E niente E niente Lui non riesce A restare con suo padre Manco in questo modo Fa niente È andata sempre così Non c'è niente Per cui mi Dovrei rimanere male Meglio tornare a questa barca Per discutere con Yanliang e Popo Sempre 16 luglio Ma la sera Perché così buio Qui dove sono Yanliang Popo Siete qui Quanto a me fregano Danno a 10 Nessuna risposta Forse non sono ancora tornati Dovrei aspettare un altro po' È tutto buio qua dentro Dovo trovare un modo Per illuminare la barca Questo avevamo già visto Non c'è più lumino qua C'era lumino qua Avevo detto che sembrava Quello di Rusty Lake Ok Dovrebbe essere con questo E posso accendere Momento fusibile 0 6 4 1 Mo' come faccio a sapere? Sempre tramite Ho capito Sempre tramite questo Delle Barche qua 0 6 4 1 0 È rosso 6 È blu 4 È giallo E 1 È verde Rosso Blu Giallo Verde Rosso Blu Giallo Verde Rosso Blu Giallo Blu Verde È connesso Devo provare Inquietante È esplosa la lampadina Senza alcun avvertimento Questi cavi Non sembrano Molto solidi È sicuro Vivere qui Il secondo piano Ha una partizione Removibile Forse Rimuovendola Si illuminerà La stanza Qua sotto Ah scusate È qua C'è bisogno Di un codice Aiuto Quindi sono vari colori Con queste forme SOS C'era scritto Graffiti Oddio È questo Non c'è la maglietta Bianca Mi sa De no Mi sembra Abbastanza giusta No Non credo sia sbagliata A meno che sia questo Eccolo L'ho messo Tutto insieme Deve essere L'autoritratto Di Pupu C'è qualcosa Sul dipinto Che è questo affare qua Meglio Cancellarlo Si è staccata Ho bisogno Di un qualche Aggeggio Per poterlo Stabilizzare Eh Non c'ho l'aggeggio Non ho l'aggeggio Oddio Che cacchio Ne so Pupu l'ha disegnato Questo Sembra Mister Zhang Blu giallo Viola arancione Che vuol dire Blu giallo Viola arancione Questo non ne ho idea Questo è giusto Però Mi serve qua Uno strumento Di qua Non ci va Blu giallo Rosa Arancione Qui proprio Che non c'entrano Oltre alle barche Ci sono dei simboli Per caso Questo è un simbolo Strano Eh Mica lo so Sono tre simboli SOS SOS Non c'è proprio altro Ci sono solo questi graffiti Questo non ne ho proprio idea Che ne so Che ne so io Questo non ne ho guarda Aiuto Blu giallo Rosa Arancione Ok Ok l'ordine giusto Era quello Ho preso questo Sono tutti questi qui Questi rombi Però sono quattro Vabbè L'interia con questo Lo posso pulire Forse lo posso pulire Solo dopo Che lo Che lo rimetto bene Allora proviamo A mettere Questo codice qua Che non è ovviamente Ah i colori potrebbero essere questi Però sono sempre quattro Mentre lì sono tre Che sto sbagliando Blu giallo Rosa Arancione Blu giallo Rosa Arancione E questo Non ne ho proprio idea Questo vi giuro Non ne ho proprio idea Questo non lo posso spostare Se non c'è un modo Di stabilizzarlo Io c'ho solo un cellulare C'ho poca roba Devo aprire prima La botola Per forza Blu giallo Rosa Arancione C'è il giallo Non c'è il rosa Cacchio Non riesco a capire Questo tutto ti rompe Blu giallo Rosa Arancione Ed essere per forza Da qua Allora si Ritorno alle bandierine Il problema Il problema è rosa Arancione Non c'è Io non Trovo simboli Cioè al di fuori di questo Non trovo simboli Le bandierine Forse abbiamo già fatto Lei è rosa Arancione Verde Rosa che però Non c'è Amo rosso Arancione E verde Eh non lo so Arancione giallo blu Da sotto Rosa non c'è Arancione Giallo blu Mica lo so ragazzi È complicato Va bene va bene Direi per oggi Ci fermiamo qui ragazzi Se vi viene in mente qualcosa Fatemi sapere Mi raccomando Come sempre mettete un mi piace Lasciate un commento Iscrivetevi al canale Vi aspetto anche su telegram E al prossimo episodio Alla prossima Ciao ciao